Dopo la creazione di una cabina di regia per elaborare un piano strategico integrato su parcheggi, commercio, opere pubbliche, infrastrutture, ricostruzione e che vede lavorare insieme vari assessorati e consiglieri comunali di maggioranza, adesso spunta anche una commissione per la pianificazione e la programmazione dell'utilizzo futuro dei fondi cosiddetti del 4%, quelli provenienti dal bacino delle risorse della ricostruzione e destinati allo sviluppo economico e sociale dell'Aquila. Commissione che dovrà occuparsi anche di censire il patrimonio immobiliare comunale e decidere come gestirlo in futuro. Due proposte che sono oggetto di un emendamento trasversale proposto dal consigliere di Forza Italia Giorgio Di Matteis ma sottoscritto anche da assessori e consiglieri di maggioranza e di opposizione. L'emendamento è stato discusso oggi in consiglio comunale, ennesima dimostrazione di una spaccatura interna con una parte della maggioranza insoddisfatta per la scarsa incisività dell'azione amministrativa. Questa commissione nasce con un preciso presupposto, non è una commissione d'indagine ma è una commissione propositiva come lo sono le altre commissioni consigliarie. È una commissione speciale naturalmente così come previsto dallo statuto e ha il compito specifico di sostenere l'azione dell'amministrazione quindi del Comune dell'Aquila per l'utilizzo di questi fondi, il famoso 4% per la ricostruzione, è destinato alla ricostruzione economica della città. Questo vuol dire che di questi 219.622.000 euro, quindi una cifra incredibile, purtroppo oltre la metà sono andati persi attorno a cose che oggettivamente non hanno creato posti di lavoro. Lavorare su posti concreti, parlo di fondo rotativo, parlo di start-up, parlo di sostegno ai giovani per l'insediamento di attività produttive e quindi parlo di sostanza e di produzione di lavoro e di posti di lavoro in questa città e di economia. Il Consiglio Comunale è cominciato all'insegna dell'alta tensione questa mattina, in particolare sul bilancio di previsione 2019-2021.